Gwyneth Peltro, il compleanno alternativo per lei, ecco come ha festeggiato la celebre attrice star di Hollywood Gwyneth Peltro ha tagliato il traguardo dei 50 anni, l'attrice, classe 72, è tra le star di Hollywood più amate, conosciuta da tutti per le sue performance brillanti e significative Che compleanno per l'attrice? Un sogno, foto, Instagram Gwyneth Peltro Con Shakespeare in Love arriva la celebrità e vince anche un premio Oscar e un Golden Globe, anche se forse le nuove generazioni la conoscono per il ruolo di Pepper Potts nel Marvel Cinematic Universe, a prescindere dalla sua filmografia, da anni ormai è un concentrato di bellezza, come dimostra anche quest'ultima foto pubblicata Gwyneth Peltro, il compleanno alternativo per lei, ecco come ha festeggiato per accogliere il mezzo secolo, la Peltro ha deciso di sfoggiare su social tutto il suo fascino, la sua bellezza e la sua sensualità, festeggiando sicuramente in maniera alternativa il compleanno con tutti i suoi fan Come vediamo sul suo profilo Instagram infatti, l'attrice ha pubblicato uno scatto che la ritrae completamente senza bene, in un nudo artistico che mette in mostra la sua lunga chioma bionda e il suo corpo scolpito 50 recita la didascalia della foto, col numero racchiuso fra due stelline, auguri da tutto il mondo per la star di Hollywood, da amici ai milioni di fan che l'hanno apprezzata in pellicole di fama internazionale Non passa di certo inosservata, oltre la sua bellezza, tutta la sensualità dell'attrice, girata di profilo, il florido di Clete è coperto appena dal braccio, mentre le gambe toniche svettano in primo piano per una visione complessiva davvero da sogno Il nudo artistico per festeggiare il compleanno fa sognare davvero tutti i fan, foto, Instagram Gwyneth Peltro Quasi 400.000 like al post, mentre i commenti davvero non si contano, in tutte le lingue, i fan hanno esaltato la bellezza dell'attrice mostrato per lei attestati di stima Anche tanti VIP ad augurare buon compleanno alla Peltro, compresa Paris Hilton, buon compleanno bellezza scrive, ovviamente in inglese, la modella, cantante, attrice e imprenditrice, allegando al messaggio anche due emoticon con gli occhi a cuoricino Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video, ciao